Buongiorno, io sono Miralem Pjanic, questa è la mia punizione. Mi metto la palla con il buco sempre verso in alto, guardo la porta, faccio i miei tre passettini, uno, due, tre, mi concentro, faccio dei piccoli passi, un'abitudine, guardo l'angolo, faccio la direzione in testa, poi deve essere abbastanza forte che non lo pare il portiere. Forse entra, forse no. Ogni calciatore c'è la sua tecnica, ovviamente ci serve un po' di talento, un po' di tutto, però è soprattutto il lavoro, tanto lavoro, si deve concentrare, credere, poi ognuno c'è la sua tecnica, ma io ho lavorato tanto sopra che adesso è un'arma in più per la squadra. adesso ci provo l'angolo di destra che è più difficile questa posizione, mi dovrò forse spostare un po' più verso la destra, concentrare. in un mio tempo, adesso proviamo a farlo tutte e tre veloce. ragazzi arrivederci e alla prossima, un bacio. a 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